Ciao a tutti, ciao ragazze allora oggi vi propongo questo make up come vedete sto già mettendo la base la mia base è un semplicissimo correttore della Manhattan la porto su tutta la palpebra mobile su tutta l'arcata sopraccigliare insomma su tutto dove che porto il numero 32 della Kiko questo fantastico bianco lo metto all'interno dell'occhio quindi vicino al condotto lacrimale e sotto l'arcata sopraccigliare allora vado a portare quel bellissimo azzurro della mia palettina della Klairs la porto su tutta la palpebra mobile mi spingo anche sul bianco quindi da darmi quel punto più chiaro e lo porto anche un po' sopra la piega dell'occhio ok ok ora vado a portare della essence quel bellissimo verde metallico il numero 18 con un pennello abbastanza diciamo cicciotto lo vado a portare lo vado a portare sopra la piega e quindi sopra l'azzurro e all'esterno dell'occhio c'è Kimo che sta giocando non so con che cosa e quindi abbaia e vado a sfumarlo diciamo con l'inizio del bianco del bianco ok ora vado a portare questo duo della Catrice il colore è più scuro quello dove c'è scritto matt il numero di quel duo è il 190 si chiama Minty Greens si legge Minty vabbè con un pennello piatto vado a portarlo nella piega dell'occhio e quindi vado a fare diciamo vado a circondare l'azzurro e quindi la palpebra mobile dopodiché con un pennello quello di prima insomma che abbiamo fatto il verde della essence metallico andiamo a sfumare i due colori insieme cioè questo della Catrice e quello della essence ok riprendo il bianco della Kiko e lo riporto sotto l'arcata sopraccigliare e vado un po' a sfumare con il verde ok riprendo il verde essence e rivado a riportarlo di nuovo per intensificare ora prendo il 4 della essence il numero 05 acqua flash e prendo quell'azzurro secondo me è azzurro secondo voi? sì vabbè quel bellissimo colore e lo riporto sulla palpebra mobile riprendo il duo della Catrice e inizio con la parte scura la porto all'esterno della rima inferiore e poi andrò a usare anche il colore più chiaro e lo porterò verso l'interno sempre della parte inferiore dell'occhio ora prendo la mia matita nera molto morbida la porto nella rima inferiore e andrò a fare poi una leggera linea diciamo vado a sporcare più che altro le ciglia insomma rimango attaccata alle ciglia prendo un ombretto nero opaco senza brillantini senza niente e con un pennello da eyeliner vado a fare la mia linea di eyeliner cioè quindi una linea nera aggiustato intanto le sopracciglia e ora vado a portare l'ultratec della Kiko questo mascara che io sto non amando di più prendo la parte marroncina dell'unto the wild e vado diciamo a delineare il mio viso un po' cicciottino non esagero naturalmente dopodiché prendo un blush sul rosa e vado a passarlo diciamo sulle guanciotte sui zigomi sempre molto lieve io ingrandisco come sempre le labbra perché le ho veramente piccole dopo aver fatto la linea uso il numero 96 della Kiko uso spesso questo colore perché avendo le labbra piccole non posso diciamo osare con colori scuri perché veramente me li farebbero ancora più piccole come vedete metto il lucid solo all'interno adesso faccio un po' la diva e il make up è finito un bacione ciao ciao ciao